e voilà con un solo video ci siamo giocati la collaborazione con la freewell anche se io sto montando uno dei loro filtri ma andiamo con ordine un saluto a tutti sono Gid benvenuti sul mio canale andremo a parlare oggi di un argomento che ho preannunciato in uno short e cioè dei filtri ND filtri ND applicati tra l'altro a un drone in particolare e cioè sul mini 3 pro adesso capiremo anche il motivo per cui bisogna specificare dove andiamo ad applicarli i filtri ND innanzitutto neutral density cioè sono filtri che hanno l'unico scopo di ridurre la quantità di luce che proviene all'obiettivo e quindi va poi in seguito al sensore quindi alla pellicola diciamo quello che era la pellicola sono sempre contrassegnati da un numero che normalmente è un multiplo di due quindi due, quattro, otto, sedici e quant'altro a salire anche di molto cosa vuol dire questo numero? Il 2 per esempio dimezza la quantità di luce il 4, il ND4 la divide per 4 e così via questa è la scala dei filtri ND il motivo principale per cui si vorrebbe ridurre la quantità di luce che arriva alla nostra nostro sensore è quello di ottenere la possibilità di mantenere i tempi di posa su un valore che ci permetta di ottenere il motion blur quindi rapidissimamente che cos'è il motion blur? il motion blur non è altro che un effetto mosso controllato o mosso voluto che può essere diviso non mi prendete per il vangelo comunque in due grandi categorie quello fotografico dove abbiamo un motion blur molto accentuato e quindi immaginiamo fotografie dove i tempi di posa sono molto molto lunghi e abbiamo delle cascate abbiamo delle immagini notturne magari ne metterò qualcuna qui in questo video per fare un esempio e lasciamole pure da parte perché parliamo di fotografia nel campo nostro dei video il motion blur normalmente lo si vuole ottenere per mantenere il più possibile naturali i movimenti delle persone, degli oggetti o di quello che si muove nella ripresa che noi stiamo andando a effettuare attenzione che parliamo già intanto di riprese abbastanza ravvicinate perché il motion blur con riprese del drone molto dall'alto e campi molto ampi non ha assolutamente senso quindi parlando di quantità di luce che il nostro sensore può andare a ricevere e avendo il mini 3 un'apertura focale fissa ci viene proprio da pensare che i filtri ND siano molto indicati su questo modello piuttosto che un Mavic 3 dove invece abbiamo i diaframmi variabili ma siamo sicuri che questo sia il ragionamento giusto? a questo punto dobbiamo passare un attimino in studio rapidamente così vediamo come il motion blur naturale viene realizzato con la regola dei 180 gradi della quale vi lascio un link in descrizione al sito Nikon la spiega molto bene noi velocemente vediamo gli fps quindi sono i frame for second ai quali abbiamo impostato la nostra registrazione possono essere 24 25 30 50 60 noi per semplicità prendiamo un valore di 30 fotogrammi per secondo e andiamo a vedere il tempo dell'otturatore che deve essere impostato per ottenere il motion blur naturale come vedete 30 porta 60 24 porta 48 50 porta 100 e questi sono valori in cui noi andiamo a spaccare il secondo quindi un sessantesimo di secondo è facile perché si raddoppia però si mette l'uno davanti l'uno barra per ottenere la frazione di secondo corrispondente bene quindi partiamo proprio da questo un sessantesimo di secondo che sarà il nostro tempo di posa di riferimento quindi quello desiderato per andare a girare le nostre riprese e andiamo a vedere cosa c'entrano quindi i filtri ND in questo ragionamento dobbiamo vedere innanzitutto qual è il tempo di posa medio automatico che il drone andrà a rilevare quindi se noi lasciamo la velocità dell'otturatore libera di operare e facciamo delle riprese di prova il nostro drone si darà un tempo di posa medio automatico immaginiamo che questo tempo di posa medio automatico sia un cinquecentesimo di secondo a questo punto noi invece lo vorremmo portare a un sessantesimo se portassimo l'otturatore a un sessantesimo di secondo con la luce che invece è molto più elevata perché il drone andrebbe a girare a un cinquecentesimo di secondo dovremmo usare un filtro eccolo qua da circa 8 quindi un filtro ND dividere la luce per 8 volte e ottenere il sessantesimo di secondo andiamo a vedere con un ragionamento di 2,50 e vediamo che siamo sul 4 ci sono sempre delle frazioni che non corrispondono esattamente al filtro perché il filtro può essere abbiamo detto 2,4,8,16 per esempio se noi andiamo a ragionare su un 1200 cinquantesimo vediamo che viene fuori un filtro da 20.8 che non esiste assolutamente perché passiamo dal 16 al 32 e quindi questo è un fattore abbastanza importante che ci porta al ragionamento successivo gli scarti come vengono gestiti e chiamiamoli quindi col nome giusto questi scarti cioè compensazioni dell'esposizione come vediamo utilizzando in questo caso un filtro da 16 avremo delle immagini sovraesposte mentre la nostra ripresa rimarrà sottoesposta utilizzando un filtro da 32 ma anche nel caso in cui come nell'esempio precedente il nostro tempo di posa medio automatico fosse di un cinquecentesimo e quindi questo ci portasse la possibilità di utilizzare un filtro molto vicino all'8 quindi l'8 andrebbe molto bene dobbiamo pensare che non stiamo scattando una foto ma bensì girando un filmato di conseguenza il drone nel suo percorso a meno che non stiamo girando le immagini sempre nello stesso punto ma normalmente non è così con un drone ci muoviamo ci muoviamo anche rapidamente a volte e questo fa sì che il nostro scenario vada a variare quindi può esserci più parte di cielo illuminata delle nuvole andiamo in mezzo a degli alberi passiamo dal sole all'ombra e quindi tutti questi fattori che vanno a intervenire normalmente girando delle scene con un drone fanno sì che nonostante noi abbiamo impostato il tempo di posa esatto a un sessantesimo e stiamo girando quindi in priorità di tempi a un sessantesimo di secondo però abbiamo visto che il filtro da 8 può funzionare bene con questa combinazione per la giornata in questione i fattori che ho detto prima vanno a variare la luce costantemente ci obbligano ci impongono ad avere un altro parametro che vada a effettuare le compensazioni questo altro parametro non è altro che il diaframma quindi fisso l'otturatore variabile il diaframma purtroppo come abbiamo detto nel mini 3 pro anche il diaframma è fisso quindi noi avremo due parametri completamente fissi e cosa presuppone questo? presuppone che oh la nostra scena avrà una luce perfettamente uguale dall'inizio del primo fotogramma all'ultimo oppure ci saranno dei momenti in cui l'esposizione non sarà assolutamente corretta a meno che ed ecco che qui entra in gioco l'ultimo dei parametri che il mini 3 pro può andare a variare ma che sinceramente trovo sconveniente qual è questo parametro? il parametro relativo agli ISO infatti se noi blocchiamo sia il tempo di esposizione sia la focale che abbiamo comunque fissa e lasciamo libero il sistema del drone di modificare un altro parametro lui andrà a modificare muovendosi e trovando delle luci diverse proprio gli ISO ma cosa sono gli ISO? gli ISO sono la sensibilità della pellicola quindi vorrebbe dire che ogni 3x2 lui utilizza una pellicola piuttosto che un'altra dove vediamo la differenza nella grana ovviamente quindi la pellicola sarà un po' più sensibile o un po' meno sensibile la seconda se alziamo gli ISO o li abbassiamo quindi questo succede normalmente se noi abbiamo fissi sia il tempo di esposizione il tempo di posa sia come lo è per forza l'apertura focale ed eccoci quindi giunti al ragionamento finale quindi alle conclusioni su tutto questo discorso dei filtri ND sul Mini 3 Pro se vogliamo ottenere il motion blur dalle nostre riprese video non ci accontentiamo del normale quindi cerchiamo qualcosa di più qualcosa di più raffinato di più vicino al professionale rispetto alle semplici riprese che possiamo fare normalmente tutti i giorni ma proprio per questo il ragionamento mi porta a pensare che non credo che nessun nessun regista andrebbe mai a modificare la portata degli ISO durante le riprese di una scena piuttosto la priorità dei tempi la priorità dei diaframmi verrebbero impostate in modo da variare uno di questi due parametri per ribilanciare costantemente la scena ma nel nostro caso mi sembra abbastanza ridicolo andare a cambiare ogni a ogni cambiamento di luce la pellicola addirittura perché stiamo parlando di sensibilità ISO quindi molte volte se non ci accorgiamo di questo di questo aspetto sicuramente non ci accorgeremo neanche di avere o meno il motion blur cosa diversa se abbiamo un drone tipo Mavic 3 dove invece abbiamo la possibilità di andare a lasciare liberi e quindi di poterli di poter variare in automatico proprio l'apertura del diaframma in questo caso il filtro ND potrebbe essere indicato perché ecco che variando questo parametro la qualità della nostra ripresa non verrebbe intaccata infatti di questo stiamo parlando andando a modificare gli ISO sappiamo che aumenta più aumentiamo gli ISO più aumenta la sgranatura dell'immagine che andiamo a ottenere questo è il mio ragionamento fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate io vi ringrazio per aver visto fino qua se ce l'avete fatta se avete saltato va bene uguale ci vediamo alla prossima un saluto da Gid ah mi stavo quasi scordando un'ultima cosa all'inizio del video ho detto che stavo usando un filtro della Freewell si tratta del filtro CPL ma questa è ancora un'altra storia un'altra storia